I laureati aumentano a Torino, ma le persone con un lavoro diminuiscono lievemente, principalmente tra i giovani. Nel 2023 si è registrato un modesto assestamento e quanto emerge dal nuovo osservatorio sul mercato del lavoro di Torino presentato dalla città. Secondo i dati, le persone in cerca di un'occupazione risultano stabili rispetto al 2022 e di poco più numerose rispetto al 2019, più 1%, con una decrescita dell'1% degli inattivi in età da lavoro rispetto al 2022. Viene segnalata poi una crescente proattività delle persone anche grazie all'implementazione di nuovi programmi di politica attiva e del lavoro. La componente prevalente è quella femminile, aumenta il peso degli stranieri mentre diminuiscono i giovani under 30. A livello di istruzione cresce il numero di persone con diplomi ITS e, come detto, di quelle con titoli universitari, 24% nel 2023 rispetto al 22% nel 2018, ma ci sono ancora un 37% di adulti esclusivamente con la licenza media. Aumentano le iniziative imprenditoriali da parte di cittadini stranieri, i giovani appaiono meno propensi del passato a fare impresa, mentre resta stabile l'imprenditoria femminile.